Oggi in Piazza Ravanosella si parla di accoglienza ma anche di integrazione. Qual è il messaggio che vuole lanciare soprattutto ai giovani che hanno organizzato questo genere di iniziative? In realtà non è che mi tocchi lanciare messaggi, io non sono un politico, sono i politici coloro i quali hanno il compito di indirizzare l'attività della società, dei gruppi che ne fanno parte, dei giovani. Per quanto mi riguarda io semplicemente porto una testimonianza, non un messaggio, una testimonianza di quello che ho visto accadere, a parte quest'ultima esperienza agrigentina, nel corso di un'intera carriera dove mi sono occupato in diverse vesti e in diversi posti di immigrazione, quindi sia accoglienza che integrazione. Diciamo che a questo posso aggiungere una mia considerazione personale, semmai, che i temi dell'accoglienza e dell'integrazione sono fondamentali perché l'immigrazione è un fatto, è un fatto da gestire, di cui prendere atto è da gestire. Il modo migliore per gestirlo è lavorare per un'integrazione che cerchi di rendere gli immigranti che arrivano parte integrante della società italiana, appunto. La parola è integrante. Sarà una bella occasione per riflettere insieme su quali sono le politiche di accoglienza e di integrazione sul nostro territorio. Soprattutto noi rifletteremo come Caitas sul concetto dell'integrazione. Proveremo a capire qual è lo stato di salute dell'integrazione sul nostro territorio, cosa si fa già e cosa si potrà fare ancora in futuro insieme. Oggi, a differenza della maggior parte delle volte in cui si parla di accoglienza, parleremo di una fase successiva a quella dell'accoglienza nel fenomeno migratorio, che è quella anche più importante, cioè dell'integrazione, ovvero dello scambio con la cittadinanza. Abbiamo deciso di fare questo evento in un posto come Scaro Cafè a Piazzera Vanusella, nel cuore di un luogo che è comunque espressione anche della comunità di migranti che si è integrata ad Agrigento. Avremo degli ospiti illustri, sarà un talk, quindi avrà una forma molto colloquiale e quindi inviteremo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere anche le loro idee per un futuro migliore per Agrigento, più integrato e in collaborazione con gli stranieri. per annullare il più possibile quel binomio noi loro che è ridondante nel fenomeno migratorio. Non si può parlare ancora oggi, dopo 30 anni di migrazione, come un evento così sporadico, come un evento straordinario. È un percorso che dobbiamo e che abbiamo costruito. oggi c'è anche la Caritas che lavora sul campo da anni e ovviamente la preparazione di figure specialistiche che conoscono le lingue, che sappiano le tecniche, che abbiamo sviluppato anche grazie a Chirosini, Stays e progetti Erasmus che abbiamo attivato. Le conoscenze con il mondo islamico, con cultura è diverso, ovviamente favorirà e rendirà l'integrazione un processo reale e non soltanto una parola da un significato spesso non definito.